Il rapper legnanese Shiva, al secolo Andrea Arrigoni, 24 anni, già ai vertici delle classifiche italiane con alcuni brani come Soldi in Nero, Calmo, Auto Blue, Aston Martin e Niente da Perdere, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. L'indagine è nata a seguito della sparatoria avvenuta a settimo milanese la sera dell'11 luglio scorso, durante la quale due giovani milanesi rimasero feriti da colpi di arma da fuoco alle gambe. La sparatoria avvenne davanti alla casa discografica del rapper legnanese. Quella sera gli agenti della polizia di stato trovarono uno solo dei feriti che aveva però rifiutato il ricovero in ospedale perché aveva riportato una leggera abrasione alla gamba e non voleva raccontare nulla. Poco dopo un altro giovane si presentò al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate, con una ferita d'arma da fuoco a una gamba, sostenendo di essere stato ferito da cinque sconosciuti. Ma la squadra mobile milanese, attraverso attività tecniche, l'analisi di numerosi filmati e l'acquisizione di dichiarazioni di testimoni, ha ricondotto l'episodio a contrasti tra giovani gravitanti nel mondo del rap-trap milanese. In particolare il tentato omicidio era avvenuto al culmine del tentativo di aggressione che i due giovani feriti avrebbero messo in atto nei confronti di Shiva e dei suoi amici.